Gianni Colacione per LibriTV, siamo a Piazza Re di Roma e stiamo in compagnia oggi 10 maggio 2015 di Fabrizio Cianci che è il segretario dell'associazione Eco Radicali. C'è una raccolta firme per due motivi, ci sono delle petizioni al sindaco, adesso chiediamo ovviamente a Fabrizio di darci delucidazioni, peraltro questa raccolta firme ci dice Fabrizio che sta andando bene, la giornata è parecchio calda e assolata. Buongiorno, si tratta di due proposte di interrogazione popolare rivolte al sindaco Marino, quindi la raccolta firme è in base allo statuto del Comune di Roma che permette ai cittadini di interrogare direttamente il sindaco e il sindaco sarà obbligato a rispondere entro 60 giorni alle questioni poste. La raccolta riguarda due tematiche, la prima è quella derivante dalla delibera 148 dello scorso anno, del 14 maggio 2014, attraverso la quale il Comune ha deliberato la chiusura di 4 strutture su 6 rispetto ai canili e i gattili comunali. Questi cani e gatti, ci chiediamo che fine faranno, il Comune li vuole trasferire presso strutture private. Strutture private che complessivamente, considerando soltanto il trasferimento dei 500 cani preventivati in delibera, costeranno oltre 2 milioni e 200 mila euro alle casse comunali. Quindi la prima domanda che noi rivolgiamo su questo tema al sindaco è quella perché non utilizzare questi soldi per adeguare le strutture comunali. Ad esempio una delle strutture che si vogliono chiudere c'era stato un studio del Comune attraverso il quale si evinceva che con 37 mila euro si poteva adeguare e ampliare l'offerta di quella struttura. Oltretutto a seguito di questa chiusura verranno licenziate 106 persone, 100 di queste hanno un contratto a tempo indeterminato attualmente e altre 6 hanno dei contratti a tempo indeterminato. Il Comune nella sua delibera ha deciso che comunque si impegnerà per l'attivazione dei cosiddetti ammortizzatori sociali e quindi ovviamente oltre ai 2 milioni di euro dobbiamo aggiungere altri costi a carico del pubblico per questi ammortizzatori sociali. Infine l'ultima questione che poniamo è quella dei bandi. I bandi di affidamento sono scaduti, tant'è vero che il Comune aveva lanciato una iniziativa per raccogliere l'interesse pubblico alla partecipazione alla gestione di queste strutture, però poi è stata ritirata. Quindi chiediamo al Sindaco in base a quali criteri vengano ridistribuiti questi cani e gatti e in base a quali criteri sono state scelte le strutture, quanti sono, quanti animali sono stati trasferiti, quali sono i costi reali. Infine chiediamo al Sindaco se la Giunta abbia pensato prima di procedere a questo esborso di risorse pubbliche, se abbia pensato a uno schema di programmazione, perché la Giunta ha deciso di fare questi trasferimenti temporaneamente. Però è chiaro che se la Giunta non ha preventivato di dotarsi di un piano di o ristrutturazioni e adeguamenti e dall'altra parte di realizzazione di nuove strutture, la temporaneità varrà per uno, due, tre anni. Quindi significa che il Comune di Roma potrà spendere 2.200.000 euro l'anno o 4.400.000 euro, 6.600.000 euro, eccetera. Oltretutto nel mentre i cani randaggi, eccetera, dove andranno sempre i privati? Quindi noi stiamo spendendo questi soldi sostanzialmente per non risolvere il problema e soprattutto perché spendere due volte, dal momento che la legge nazionale obbliga tutti i Comuni a dotarsi di proprie strutture per la cura di cani e gatti. Quindi comunque il Comune dovrà in ogni caso avere le sue strutture, se vuole stare, dentro la legalità. Quindi questa è la prima questione che poniamo al Sindaco Marino. La seconda è un'altra questione che riguarda in un certo qual modo gli animali. Sotto la Giunta Alemanno, la Giunta ha deciso di concedere delle autorizzazioni per l'ingresso di persone armate che abbiano un regolare porto d'armi per finalità sia sportive che venatorie. Premetto che la riserva naturale del litorale romano è un'area tutelata e quindi è un'area dove vige il divieto di caccia. Oltretutto è nota per importanti aree archeologiche, ne cito soltanto due, Ostia Antica, il porto di Traiano, dove sempre per la legge nazionale in ogni caso non è possibile cacciare. Allora la domanda che poniamo al Sindaco di Roma Marino è questa, perché il Comune continua a dare queste autorizzazioni per persone residenti nel Comune di Roma, possono avere un permesso che dura fino a cinque anni, quelle non residenti un anno. Oltretutto la riserva era stata istituita nel 1996 proprio per non solo tutelare i beni archeologici, paesistici e naturalistici presenti, ma anche per farla diventare un polo turistico scientifico, viste gli importanti valori storici e ambientali che sono presenti. Quindi potrebbe essere anche le occasioni attraverso la quale finalmente il Comune di Roma rispetta anche qui la legge del 1996 e inizia a valorizzare quest'area abolendo intanto questo permesso di caccia di fatto e in secondo luogo creando questo famoso polo turistico scientifico previsto da anni e mai realizzato che potrebbe portare anche molto lavoro e sappiamo quanto ce n'è bisogno in questo momento. Perfetto, questa qua è un'attività, lo ricordiamo, di questa associazione che si chiama Eco Radicali nell'ambito appunto del mondo della sterminata galassia radicale. Fabrizio, ci dici qualcosa di questa associazione? Quanti siete? Da quanto tempo è nata? L'associazione è nata l'8 marzo 2013, è un'associazione che intende riprendere la tradizione ecologista radicale, quella di Adele Faccio, Bruno Zevi, Peccei eccetera, tanti altri. L'associazione attualmente ha 50 iscritti, questo sarebbe più preciso il tesoriere, è distribuita in alcune zone d'Italia, nel Lazio, nel Friuli, in Emilia Romagna, essenzialmente qualcosa in Puglia e colgo l'occasione per dire che il 13 giugno si terrà una conferenza programmatica, un'assemblea straordinaria che programmerà le attività da qui a settembre dell'associazione, che si terrà appunto sabato 13 giugno a Roma presso la sede del Partito Radicale in via di Torra Argentina 76. Per quanto riguarda le attività, queste prime due interrogazioni al sindaco di Roma sono diciamo una sorta di antipasto perché noi stiamo preparando delle interrogazioni al sindaco su pesticidi, sempre nell'ambito del Comune di Roma e sul nuovo piano dei trasporti del Comune di Roma e sulle nuove delibere cementizie, le nuove varianti al piano regolatore, quelle che anche grazie a una tua intervista, se ti ricordi, avevamo sventato sotto alle mani, sono state ritirate fuori dal cassetto e adesso c'è questa discussione al Comune di Roma. Ci spiace ricordare che il sindaco nel suo programma aveva, se non ricordo se al secondo o al terzo punto, aveva promesso ai cittadini che sotto la sua amministrazione non si sarebbero effettuate più ulteriori espansioni della città. Quindi seguiranno queste altre tre interrogazioni. La campagna si chiama Interroghiamo il sindaco perché ci sono una serie di questioni sulla quale bisogna fare chiarezza, sono questioni che riguardano la vita di tutti i giorni dei cittadini, sulla qualità della vita, su che tipo di città vogliamo. Quindi prossimamente ci saranno anche queste iniziative e poi ulteriori a settembre, sempre su queste tematiche. Perfetto, un'ultima cosa, un luogo mediatico dove poterci informare su internet su queste cose? Sì, seguiteci intanto sul nostro sito ecoradicali.it e poi ci potete seguire anche su Twitter, il nome utente è sempre ecoradicali, mentre su Facebook ci trovate la pagina ecoradicali. Grazie Fabrizio Cianci.